Siamo qui davanti alla caserma della Guardia di Finanza di Magenta dove sono stati operati degli arresti partiti dalla Guardia di Finanza di Parma. Siamo qui con uno degli avvocati. Cos'è successo, avvocato Gretini? Niente, hanno eseguito delle ordinanze di custodia guardelare in carcere. Adesso analizzerò gli atti e l'ordinanza che è stata notificata e mi ha assistito. E poi mi riprometto, nel corso dell'integrazione di garanzia, di rispondere in maniera adeguata. Si parla comunque del bonus 110%? A quanto pare sì. A quanto pare si tratta di una frode legata a questo bonus. In linea generale cosa avrebbero fatto gli arrestati? Mi riprometto di leggere. Certo, comunque ci sono due arrestati a Magenta e altre persone sparse per tutta Italia. Va bene, grazie avvocato.